musica 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 ola ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono pochi e oggi siamo trovati qui su Super Mare 74DS nella scorsa parte abbiamo fatto musica musica le 8 molette rosse della musica 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 Vabbè No Eh ci poteva mancare il fele Mamma mia No vabbè comunque Ehm siamo venuti qua per Perchè c'è la Perchè c'è la nascosta qui No 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 Allora devo passare Allora siamo venuti Allora siamo venuti a passare da qua Allora 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 Ok Aspetta Allora 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 Ma noi Non siamo venuti Noi Non siamo venuti Noi Non siamo venuti ad affrontare Bowser Aspetta Aspetta Vabbè 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 Vediamo un po' se è possibile saltarci Vabbè 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 l'ho presa... l'ho presa al volo ok andiamo a perdere tempo cercando di non cadere vabbè sentite ve la taglio ci siamo di nuovo dai l'abbiamo fatta si perchè era una sala nascosta ottimo vabbè vabbè siamo caluti perchè mamma mia vabbè comunque ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao